Una persona è morta e una è rimasta ferita in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale 4 in località Mura a Cison Valmarino. Sul tratto si sono scontrate frontalmente due automobili. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto le persone. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico ha dovuto constatare la morte del conducente, un uomo di 53 anni. L'auto che stava guidando dopo l'urto ha terminato la corsa nel vigneto che costeggia la strada. Ferita l'altra conducente che è stata stabilizzata e trasferita all'ospedale. Sul posto hanno operato vigili del fuoco, forze dell'ordine 118.